eccoci di nuovo tornati ragazzi su youtube con mv3 o tre o quello che cazzo è siamo di uno con i pazzi del plan in c, con steve, con virella, anzi con vio puro, con kree e con anonimus purtroppo che rompe coglioni però non ti sento, non ti sento di onda e meno male che non mi senti perché ti ho detto che sei uno stronzo vabbè poi c'è sto leggendo non so che, facciamo un ched vetrano ragazzi, vai 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 la minchia ora ti sento minella di m***a che tu vuoi il video? minchia o dente c'è un tante segreto dente ci devi rimanere per stare qua ma come? si è in diretta su youtube è infatti ciao tutti ragazzi sono un tante segreto e anche oggi farò vedere come si è ammazza qualcuno con il coltello ok bene, allora zittite gli altri per favore ok fatto partiamo con questo ricocet veterano ched sui botleg veterano ched vai che cazzo vuoi? Anonymous tente segreto ti voglio col cecchino non insultare non insultare sai zitta non insultare sai zitta cazzo cazzo cerchi di distruggire i c non vuol dire italian clan i campero i cornuti significa iscrivetevi i campero o meglio ancora i cazzo ciao olè lio siamo qui a fare il rusher da paura ritorna ai tempi di F4 ne manca uno solo ragazzi perchè uno solo morirà non ci trova non si trova no la ecco lì all'inizio era bastardo vediamo a Vinella a Legend poi c'è Steve è morto è morto è morto è morto Steve e ti detti ecco la droga è misterioso ragazzi il fenomeno immortale più che altro ha detto che c'è una ventina in meega dei cinesi e venti mega ecco perché venti mega a per me non 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 ora 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 come il giro allevare di mezzo non 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 ahahah ahahah vediamo cosa fa kree vabbè kree è morto rimanano con un ruolo l'onimus legge andiamo su anonimus terrore di merda è uno cazzurini meno di merda terronaccio via nonostante nonostante noventi mila minuti ma vabbè durerà 10 minuti una roba del genere no sto scherzando quanto dura chi se ne porta no l'accadesse vole no me no bella che stavate facendo? non si è morto eccolo l'anonimus scuola per la isla st un'altra un'altra st un'altra 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 questo il suo non è un'altra 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 üfat un'altra 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 quale che ciember quale un'altra forse io ho svegliato di merda abbiamo con il lanciadranare non fattuolo credi fattuolo fattuolo credito ma questo è un po' questo è un po' di c4 c4 ci piace dai guarda come una inculata o non dire parolacce legenda è più campo di me ma non lo permetterà utente e granola oh chi l'ha preso chi l'ha preso siamo posizionati 3 a 0 sicuro è maltese questo qua e allora ottimo lavoro c'è una connessione della madonna perchè a malta c'è una superconnessione c4 tac devo fare un piccolo show se chi no? pronti? dai ho una che le prende giubbotte ho un'ottima ho un'ottima esatto abbiamo preso ottimo che cazzo serve si non fermo oleee quando si è improvato a farlo ma non l'uomo guarda l'ultimo mio guarda l'ultimo mio guarda l'ultimo mio guarda l'ultimo mio guarda vediamo che che di merda grande bcx grande magic vabbè ora l'ha preso nei colpi l'ha preso nei colpi l'ha preso nei colpi eh questa è classe, devi ancora imparare bravo magic bravo bravo segui la ci sono 3-5 volte bene ragazzi per questo video gameplay è tutto, il vostro magic vi saluta magic posso fare un saluto? salutiamo anche i ragazzi dei clan in C Anonymous, Christian, Steve Binaldi ciao Sucatta un saluto Anonymous ciao 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 ragazzi iscrivetevi a tutti a tutti